Federico Ferrini ha scelto il rito abbreviato, sarà così processato a fine aprile di fronte al group del Tribunale di Arezzo. Il giovane imprenditore casentinese, reo confesso dell'omicidio di Maria Venasio de Sousa, alla fine ha optato per il rito alternativo che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Ovviamente se il processo sarà celebrato ancora non è possibile dirlo, dopo che lo stop alle udienze per l'emergenza Covid-19 è stato prolungato al 15 aprile. Era lo scorso 26 agosto quando il corpo senza vita della donna venne ritrovato nell'appartamento di Via della Robbia ad Arezzo. La sessantenne aveva la testa fracassata ed un laccio ancora legato attorno al collo. Ferrini venne arrestato qualche settimana dopo, confessò l'omicidio prima negli uffici della mobile e poi di fronte al GIP. Secondo l'accusa, nella notte tra il 25 e il 26 agosto Ferrini si recò nell'appartamento della donna, cercando un chiarimento con lei ne nacque così una lite furiosa degenerata e infine nel sangue. L'omicida ha sempre dichiarato di essersi sentito ricattato dalla sessantenne che lo avrebbe minacciato di rivelare a tutti le sue assidue frequentazioni con le prostitute se non le avesse dato del denaro. All'imprenditore non viene contestato l'omicidio premeditato. Secondo la procura si trattò infatti di un delitto d'impeto. All'imprenditore non viene contestato.